è sempre stato molto interessante con le mie colleghe il confronto rispetto alla strategia del recupero perché tutte ci volevamo allenare tantissimo chiaramente volevamo vincere però per allenarci e dovevamo essere anche riposate un po' perché è ovvio che bisogna riposarsi quindi qual è la strategia migliore per recuperare e poi allenarsi tanto? essere capaci di prendere il proprio tempo dedicare un poco piccolo tempo nel recupero nel dare a noi stessi il tempo di recuperare questo sì nello sport per raggiungere grandi traguardi ma credo fortemente che è ancora più importante nella vita grazie a tutti